Nessuno mi può sconfiggere! Sono forte e... Forte? Sono il boss della giungla! Non fa male quello! Ho ho ho! È tutto quello che sai fare? Poveretti! Siete troppo deboli per sconfiggermi! Non mi piace così! Non picchiarmi sulla testa! Lo pagherete! Non farmi arrabbiare! Vedo le stelle! La ricetta è mia! Basta! Nessuno mi sconfigge! Sono così infelice! Qualcuno ha rubato le ricette e gli ingredienti delle nostre merendine preferite! Dobbiamo riprenderci la ricetta e gli ingredienti delle merende fresche Kinder! Andiamo, pinguì! Buono! Adesso mi sento rigenerato! Quello sì che è super fresco! Ai che male! Ehi, è paradiso che chiama! Dobbiamo aiutarlo! Ciao amico! Tutto ok? Sei di nuovo libero? Abbiamo recuperato tutto! Kinder pinguì! Grazie al tuo aiuto ce la possiamo fare! Grazie per il tuo aiuto! Smetti di fare lo sbruffone! Noi non abbiamo paura! Siamo pronti a far rumore! Cosa vuol dire? Bisogna vedere il video e sapere com'è il gioco! Sì! Lo abbiamo sconfitto! Siamo imbattibili! La ricetta segreta è mia! Non mi batterete mai! Da dove è uscito fuori questo? Che cos'è? Maledetto! Uff! Basta! Non è facile sconfiggermi! Bel colpo! Ma non basta! Principianti! Continuate ad allenarvi! La pagherete voi! L'ora della resa dei conti! Non ce la puoi fare contro il capitano! Questo non è certo bello! Ti ho battuto! Mai mettersi contro il capitano! Grazie amici! Sono di nuovo libero! Finalmente mi avete fatto uscire da questa terribile prigione! Super grazie per l'aiuto! Vediamo se posso aiutarvi! Nessun problema! Ci penso io! Fammi vedere! Ciao amici! Chiaro che vi aiuto! Gli amici sono fatti per questo! Aiuto! 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 C'è qualcuno che può aiutarmi! Ascoltate! So che vi imbatterete nel boss di questo posto! E vi do un consiglio! Il boss della giungla è molto duro! Ma potete sconfiggerlo con la sua stessa arma! Bisogna trovare un modo per colpirlo alla testa! In bocca al lupo! Il furfante che spadronigia in questo posto è abbastanza pericoloso! E bisogna stare attenti! Ho sentito che ha un punto debole che dovete trovare per poterlo sconfiggere! Buona fortuna amici! È complicato sconfiggere il boss della fabbrica! È armato fino ai denti! Ma può esserci qualcosa qui intorno che potete usare contro di lui! Non è una buona idea combatterlo faccia a faccia! Spero che possiate farcela! L'oyeti della montagna è molto molto pericoloso e non ha quasi nessun punto debole! Ho sentito che è molto fiero della sua splendida pelliccia! Usate questo contro di lui amici miei! E penso che riuscirete a farcela! Grande! Ce l'avete fatta! Sono fiero di voi! Urrà! Il male non vince mai! Voi due siete i migliori! Bravi! Avete recuperato tutto! Ciao! Benvenuto in Fresh Adventures! Sono Kinder Paradiso e sono qui per dare alcuni consigli su come controllare i nostri eroi! Utilizza le frecce sulla tua tastiera per muovere il tuo eroe a destra o a sinistra! Se premi la freccia in giù, il pinguino o Kinder Fetta al Latte si abbassano! Utile se qualcuno gli sta tirando qualcosa! Sta attento! Premi il tasto D per passare da Kinder Fetta al Latte al pinguino! Insieme sono un'ottima squadra e si completano l'uno con l'altro! Sarà necessario usarli entrambi per vincere! Usa il tasto A per saltare! Se premi contemporaneamente una freccia direzionale, il personaggio salterà in quella direzione! Facciamo un po' di pratica! Bravo! Ben fatto! Mentre giochi, puoi raccogliere le stelline del fresco per aumentare la tua scorta di palle di neve! Puoi vedere quante palle di neve hai raccolto nell'angolo in alto a sinistra dello schermo! Tieni d'occhio le tue palle di neve! Ti serviranno! Le palle di neve si tirano con il tasto S! Congeleranno i nemici che cercheranno di fermarti nel gioco! Se premi il tasto Freccia in su e il tasto S, puoi lanciare una palla di neve in alto! Utile contro i nemici volanti! Un'altra cosa che puoi raccogliere sono i bonus d'energia! Puoi vedere quanta energia hai nell'angolo in alto a... Se esaurisci l'energia, hai perso! Quindi, tieni d'occhio la riserva! Raccogli le deliziose merendine che trovi sulla strada! Aumenteranno decisamente il tuo punteggio! Adesso ti dirò come arrampicarti! Basta saltare e usare le frecce direzionali per andare su o giù! Facile, no? Oh oh! Qualche volta incontrerai degli ostacoli difficili da superare! Non ti preoccupare! Il pinguino può fare qualcosa di speciale! Se salti mentre sei in aria, premi nuovamente il tasto per saltare! Il pinguino comincerà a sbattere le ali per fare un salto più lungo! Dai! Facciamo un super salto! Il tasto per saltare è il tasto A! Questo salto devi farlo fare al pinguino! Quando dei grandi oggetti bloccano la tua strada e non puoi superarli, non c'è problema! Kinder Fett al Latte è molto forte e può spingere oggetti pesanti e liberare il percorso! Basta passare al Kinder Fett al Latte e utilizzare i tasti direzionali per spingere via gli oggetti! Ti serve Kinder Fett al Latte per spostare questo dal percorso! Adesso sei pronto per la sfida! Va avanti e riprenditi gli ingredienti per le merendine! Devi trovarli tutti! Il cioccolato, la farina, il latte, il miele, il cocco, lo zucchero e ultima, ma non meno importante, la ricetta rubata! Gli ingredienti recuperati saranno visualizzati in alto sullo schermo! Buona fortuna! Ottimo! La giungla tenebrosa! La valle magica! La montagna misteriosa! La fabbrica spaziale! Attento alle trappole! Ehi, Fett al Latte! Dobbiamo riprenderci le ricette e gli ingredienti delle merende fresche Kinder! Qualcuno ha rubato le ricette e gli ingredienti delle merende fresche Kinder! Andiamo! Riprendiamocele! Ai, che male! Aspetta che ti acchiappo! Dobbiamo trovare Paradiso! Ti abbiamo liberato! Beccati questo, birbante! Grazie, Paradiso! Grazie per il consiglio! Delizioso! Adesso mi sento molto meglio! Vediamo chi ride per ultimo! Io non sono affatto impressionato! Sai solo parlare? Urrà! Abbiamo vinto! Ce l'abbiamo fatta! Fetta al Latte! Buttali a mare! Invasori! Invasori! Eccoli! Sono qui! Godardo! Godardo! Agli ordini, capitano! Sparisci! Puntamento elettronico in atto! Allarme invasori! Allarme invasori! Arrenditi! Non hai possibilità di battermi! Attenzione! Sistema danneggiato! Allarme rosso! Chiudere tutti i sistemi! Danno assorbito! Radiografia attivata! Scanner attivato! Individuata posizione! Condizione obiettivo! Andate subito! Allontanatevi subito! Caricare! Attenzione! State entrando in zona proibita! Arrendetevi invasori! Controllare coordinate! Obiettivo! Per qualsiasi cosa siete venuti! Non ve la do! Contro di me non avete possibilità! Piccoli piagnucoloni! Vi darò una bella lezione! La mia pelliccia si sta sporcando! E io non lo sopporto! Ah! Che schifo! Della neve sparca sulla mia pelliccia! Questo non mi piace proprio! Non fatemi arrabbiare! Oddio lo sparrico! Il vostro viaggio finirà qua! Non avete scampo! Dannazione! Non avete idea di quanto sia impegnativo conservare una così suntuosa pelliccia! Non sfidatemi! Il vostro tempo è scaduto! Che succede? Sto precipitando! Che carino! Una piccola palla di neve! Questo è ridicolo!